Grazie, Presidente. In questi 7-8 mesi da parlamentare io e i miei colleghi non abbiamo ricevute critiche sostanziali, forse qualche critica sul modo in cui abbiamo interpretato la comunicazione del gruppo, ma critiche sostanziali non le abbiamo mai ricevute. Non c'è stato mai un cittadino, né elettore del Cinque Stelle, né di sé, né della Lega, né del PD e PDL, che ci abbia detto che questa vostra proposta non va, questo emendamento non andava fatto, questo ordine del giorno è sbagliato, avete fatto male ad opporvi ad un determinato decreto legge. Non è mai successo e questo lo viviamo anche con estremo orgoglio. Abbiamo ricevuto una enorme critica, avremmo risposto miliardi di volte. Sono contento che c'è in Aula, Presidente, il Deputato Bersani, perché così possiamo anche spiegare di fronte all'Assemblea le ragioni di questa critica che abbiamo ricevuto dovunque, nei banchetti, nei social network, attraverso appunto organi di stampa. La fiducia al PD. Perché non avete dato la fiducia al PD? Non vado fuori tema, parlerò del decreto, parlerò del complesso degli emendamenti, però è sostanziale parlare di questo aspetto. A parte il fatto che non ci è mai stata chiesta, mai stata chiesta la fiducia. Il collega Bersani ci disse in sostanza di abbandonare l'Aula al Senato, ma quello che noi abbiamo con forza rivendicato è il fatto che volessimo un cambiamento. Io ci credo che il collega Bersani voleva fare un governo del cambiamento. Non lo voleva fare il suo partito, se no non avrebbero impallinato Prodi. Lui io credo che l'avrebbe voluto fare. Il problema è che per cambiare occorrono dei segnali. Per fidarci abbiamo chiesto dei segnali. Li abbiamo chiesti quando abbiamo preteso l'apertura delle commissioni parlamentari anche in prorogazio e non c'è stata data. Abbiamo occupato l'Aula di Montecitorio fino a mezzanotte, se vi ricordate bene, e non c'è stata data. Nessun segnale. L'abbiamo chiesto durante le elezioni del Presidente della Repubblica. Abbiamo eletto un altro Presidente, che rispettiamo, poi io non lo stimo personalmente, rivendico il diritto di non stimare una persona. E non c'è stata data, neanche in quel caso, un segnale di cambiamento. I deputati del PD ci dicevano «vorremmo votare Rodotà perché è il miglior Presidente della Repubblica possibile, ma non lo votiamo perché l'avete proposto voi». Questa era la risposta dei colleghi del PD. Avrò parlato con decine di colleghi del PD e poi ci dicono di scongelarci. Con decine. Questa era la risposta. Decreti come questo, la guerra in Afghanistan, dimostrano ancora di più il perché non ci fidiamo. Perché su tematiche così importanti per noi, che siamo da sette mesi in Parlamento, non c'è alcuna differenza tra il Partito Democratico, il Popolo e la Libertà, SEL, Fratelli d'Italia e il discorso che ha fatto prima il Vice Ministro, io l'ho detto in faccia, l'avrebbe potuto fare la Russa, l'avrebbe potuto fare Mauro. Noi non notiamo nessuna differenza. Si giustifica, dopo dodici anni, la guerra più lunga dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. Si giustifica. Senza senso. Allora avete capito per quale motivo non diamo la fiducia, non abbiamo neanche pensato a dare la fiducia al Partito Democratico. L'avete capito, probabilmente, definitivamente. Oltre a quando si parla di TAV, di finanziamento pubblico ai partiti, di finanziamento pubblico all'editoria, di costi della politica, e anche sulla politica internazionale, e soprattutto sulla politica internazionale, che non ci fidiamo del Partito Democratico, che comunque ha preso più voti del Movimento 5 Stelle nel complesso, purtroppo. Anche se le elezioni le ha perse, il collega Bersani si sarebbe dovuto dimettere il giorno dopo. Questo è un dato di fatto. Questo è un dato di fatto. Questo decreto è uno dei pochi decreti arrivati in Aula che non è un decreto omnibus e che anche una logica, la logica dell'urgenza, ce l'ha anche in questo caso, perché dobbiamo rifinanziare delle missioni che purtroppo stanno, i nostri militari sono adesso coperti da un'assicurazione per l'eccessivo ritardo, tra l'altro, da parte del Governo. Ha una logica. Noi non lo contrastiamo dal punto di vista, quindi, del metodo? No, stavolta no, ma del merito sì. Del merito sì. Mio nonno diceva che le guerre, mio nonno, l'unico nonno che ho conosciuto, le guerre non bisognerebbe mai, mai combatterle, però se le fai, se proprio sei costretto a farlo e a noi nessuno ci ha mai chiesto il permesso, non a noi 5 Stelle, non c'eravamo quando siamo entrati in Afghanistan, a noi cittadini italiani, a noi popoli italiani, nessuno ci ha mai detto niente, ci ha chiesto niente. Volete entrare in Iraq? Volete entrare in Afghanistan? Non ce l'ha mai chiesto nessuno. Il popoluccio come lo trattate? Quel popoluccio che non è in grado di prendere determinate decisioni perché ci sono delle cose più importanti che non capiamo noi. Noi cittadini non capiamo gli accordi internazionali, la sicurezza internazionale, il terrorismo. Poi ci ragioniamo anche sul terrorismo. Non ce l'avete mai chiesto, mai. Trattati davvero come delle pezze. Il popolo italiano è trattato, non lo so, come degli zimbelli del potere. Siamo questo. Dicevo che mio nonno dice che le guerre non bisogna mai combattere, però se proprio si combattono almeno proviamo a vincerle. Ecco, la guerra in Afghanistan, ammettiamolo, ammettetelo voi che l'avete fatta, o comunque sia voi che non avete mai fatto nulla per cambiarla, perché poi c'è entrato Berlusconi in Afghanistan, è una guerra persa, è una guerra perduta. Il governo degli Stati Uniti, e lo sapete, prima ce l'avete detto, sì è vero, è il segreto di Pulcinella. Raccontiamoli in aula i segreti di Pulcinella. Il governo degli Stati Uniti sta trattando con i talebani, con i tagliagola, con quelli che mettevano il burka, che non permettevano lo sviluppo delle donne, che per carità cose vere, per l'amor di Dio. Sta trattando. Baco d'acqua, si dice in spagnolo sott'acqua. Tratta con il Mullah Omar, ci trattano, anche perché non sono riusciti a sconfiggerlo, perché il popolo afgano da sempre, questo li va riconosciuto, dimostra dignità. Hanno cacciato gli inglesi, hanno cacciato i russi, finanziati da, come dire, i russi giustificati, perdonatemi, dal Partito Comunista di allora, che era in declino. È così, è così. E comunque gradirei, Presidente, continuare senza interruzioni, non è un dibattito questo. E hanno in sostanza sconfitto anche l'esercito americano, che è supportato dai soliti scendiletto, che siamo noi, perché di questo si tratta, siamo degli scendiletto degli americani. Essere alleati non significa essere sudditi, essere alleati non significa essere sudditi. Il popolo italiano non è suddito di nessun altro, è il popolo italiano sovrano. Non siamo sudditi degli americani, Presidente, nonostante ci siamo comportati in questo modo. La guerra è persa, perché non l'ammettiamo? Che cosa ci stiamo ancora a fare in Afghanistan? 5 miliardi di euro abbiamo speso, perché poi sembra fare il demagogo, il populista, ricordare le cifre. 5 miliardi di euro. Fate delle battaglie in seno alla maggioranza per 100 mila euro qua, 100 mila euro di là, l'Imu, che poi cambiate il nome perché si cambia nome a tutto. Le guerre di invasione diventano interventi umanitari, la service tax diventa, scusate, l'Imu diventa service tax, gli inceneritori diventano termovalorizzatori e, perdonatemi, le puttane diventano escort. Perdonate questa parola, ma di questo si tratta. Cambiamo il nome a tutto, ma la sostanza è che siamo in guerra, una guerra che non abbiamo voluto, una guerra persa che è costata la vita di tanti militari italiani. Mi è andato io a dire alle famiglie che l'abbiamo fatto per l'onore, per i diritti umani, perché ce l'hanno chiesto la Nato, perché esiste il diritto internazionale, perché esistono degli accordi internazionali, non lo possiamo fare. Vedete, quest'Aula è sempre più staccata dalla realtà, come sull'afferro d'Otà, come su quei giorni. Quei giorni sono stati drammatici per me, perché noi vedevamo fuori migliaia di cittadini che chiedevano una cosa, mica elettori del Movimento 5 Stelle, lì fuori c'erano elettori di Selle e del PD soprattutto, che dalla sera prima chiedevano votate Rodotà, votate Rodotà. Vi ricordate che la Finocchiaro diceva chi sono questi? Elettori del Partito Democratico. E qua dentro tutti noi arroccati, anzi tutti voi arroccati a votare di nuovo lo stesso Presidente. Ecco, lì ho avuto la sensazione di uno scollamento totale della classe politica dalla cittadinanza, totale, perché i cittadini, non gli elettori del Movimento 5 Stelle, perché sapete perfettamente che Rodotà viene da un'altra area, che non è quella del 5 Stelle, è un uomo di sinistra. Il Movimento 5 Stelle non è un movimento di sinistra, chiaramente non è neanche di destra, andiamo oltre. E lì ho avvertito, sono stati giorni per me drammatici, sì, su questo decreto, sulla guerra in Afghanistan, perché poi soprattutto di guerra in Afghanistan si parla, anche perché il Governo non spacchetta le missioni. Il Movimento 5 Stelle avrebbe anche avuto la gioia di votare favorevolmente alla missione in Libano. Funziona. I nostri militari sono strastimati e si mettono tra due forze che si contrastano tra di loro. Un ottimo lavoro. Questo significa fare peacekeeping. Perché non ci date la possibilità di votare separatamente una missione da una parte del mondo con un'altra missione che non c'entra nulla? Perché non ci date questa possibilità? Non l'avremmo fatto con tutta la voglia, il cuore. Ci saremmo scongelati, tranquillamente. Ma l'Afghanistan no. L'Afghanistan è stato deciso perché qualcuno voleva costruire oleodotti. Questa è la verità, soltanto per interessi economici. Questa è la verità. Perché non c'è scritto da nessuna parte che c'era un collegamento diretto tra quell'ignobile attentato alle Twin Tower con l'Afghanistan. Ma dove sta scritto che gli attentatori erano tutti dell'Arabia Saudita? Dove sta scritto? Pure subito a dire no, non andiamo lì, lì, lì. E poi la scusa del Burka. Ma sapete se ancora lo portano il Burka in Afghanistan? Chi ci è andato? Lo chiedo chi ci è andato. Sapete se siamo riusciti a cambiare usi e costumi anche millenari, giusti o sbagliati che siano anche millenari di una popolazione. Quante menzogne sono state dette in quest'Aula? Quante menzogne al popoluccio che di fuori era spesso più saggio dei parlamentari che stavano qui a legiferare? Tutto per interessi economici, sempre, sempre i soldi. Si discute sempre e solo dei soldi, anche in quest'Aula, sempre e solo dei soldi. Ma è degli ideali, anche delle utopie che, secondo Galeano, è quel che ci permette di camminare e di andare avanti. Sì, le utopie. Il Movimento 5 Stelle è contrario a qualsiasi intervento militare per portare la pace, perché è un ossimoro. È un ossimoro. Ossimoro. Come dire, Berlusconi, onestà. Sono ossimori. Non vanno d'accordo queste cose. Una missione di guerra non va d'accordo comportare la pace. Grazie, Presidente. No, il dibattito, per carità. Se si arrabbiano quelli del PDL, siamo felici. Onorevole Bianconi. Onorevole Di Battista. Si attenga. Ho parlato di Berlusconi, no, dell'onorevole Bianconi. È un condannato, un delinquente. Onorevole Di Battista, prosegua. Infatti non sta in Parlamento. Comunque, se l'ha ripreso già due volte, lo può espellere, per favore, Presidente? Non è sua facoltà espellere persone che stanno. Onorevole Di Battista, prosegua. Onorevole Bianconi, lasci proseguire. Onorevole Bianconi, non mi costringa a richiamarla. Prego, onorevole Di Battista. Non è un parere mio, è un parere della Magistratura, un organo supremo dello Stato, evidentemente, che dovrebbe essere assolutamente rispettato. Un condannato, chi non rispetta le leggi, a casa mia è un disonesto. Ma andiamo avanti. Parlavamo del decreto. Onorevole Bianconi, per cortesia. Abbia pazienza. Onorevole Bianconi, su. È uno simoro portare la pace con le bombe. È uno simoro. Non ci siamo riusciti. Dobbiamo tornare a casa. Il Momento 5 Stelle ha presentato emendamenti, anche uguali a quelli dei colleghi di SEL, per il ritiro immediato. La prima azione politica che la Commissione Affari Esteri ha fatto in questo Parlamento è stata la presentazione della mozione di ritiro immediato. Come diceva il collega Sibilia? Chiaramente pensando a un ex-strategi, magari coinvolgendolo quelle organizzazioni che lavorano lì. Le prime due settimane noi abbiamo convocato delle organizzazioni, tra cui Emergency, che è un vanto, un fiore all'occhiello dei cittadini italiani. Ci sono delle persone che sono degli esempi per tutto il popolo italiano. Abbiamo convocato Pangea, InterSos, Afghana. Lui si sono stupiti che un gruppo parlamentare li avesse convocati per parlare di quello che succede in Afghanistan. Abbiamo pensato, noi non ci siamo mai stati in Afghanistan. Abbiamo chiaramente una visione politica, ma non ci siamo mai stati, chiediamo a loro. E ci hanno detto che cosa ci stiamo a fare, che ogni giorno dobbiamo spendere soldi, energie solamente per curare le ferite di disgraziati. Il terrorismo. Parliamo del terrorismo. Come nasce il terrorismo? Nasce quando, in sostanza, non voglio giustificare nessuno, nessuno. Però parliamo pure di storia. Per qualcuno, per gli avversari, anche Garibaldi era un terrorista. Giulio Cesare Pericali era un terrorista, andava a casa loro e faceva determinate cose. Questo è un dato di fatto. E nessuno sta giustificando il terrorismo. Stiamo dicendo l'esatto opposto, che la violenza giustifica, ahimè, gli stessi terroristi. Le bombe non fanno altro che creare quelle condizioni per far sì che alcune persone, purtroppo, intraprendano delle strade sbagliate e utilizzino l'arma del terrorismo. Anche perché nel mondo di oggi c'è una totale disparità di mezzi bellici che fa sì che, purtroppo, delle persone utilizzino i mezzi drammatici che condanniamo fino alla morte del terrorismo perché non ne hanno degli altri. Perché quando in Afghanistan le bombe vengono addirittura buttate giù con dei droni, cioè non c'è neanche più anche quella sorta di romanticismo bescero, bescero, che c'era nelle guerre antiche, uno scontro tra due persone, bescero, bescero, perché siamo assolutamente per la non violenza, che comunque si fronteggiavano. Oggi non c'è neanche più questo, perché dei villaggi zompano in aria in Afghanistan per delle bombe mandate da qualcuno che telecomanda degli aerei. Questo è un dato di fatto. Ho fatto un discorso ampio, ho fatto arrabbiare qualcuno, mi dispiace, forse. Quello che vogliamo dire è che su tematiche del genere, sulla politica internazionale, per noi è fondamentale. Non è assolutamente, concludo, Presidente, un modo per creare divisioni interne, per creare un dibattito, per fare propaganda. No, perché queste sono posizioni che come cittadini italiani abbiamo da tanti anni, quando neanche si pensava a costituire un movimento di cittadini come il Movimento 5 Stelle. Ecco, è su questi temi che si segna una separazione evidente tra un movimento di cittadini come il Movimento 5 Stelle e la partitocrazia che ha non soltanto distrutto l'Italia, ma prova a distruggere anche il mondo. Grazie.